Eccoci qua belli miei. Eccoci. Ciao a tutti. Ciao. Allora, faccio le frappe. Ah, e andiamo? Faccio le frappe mia. Buone, dai Gildare. Allora, 500 grammi di farina, 50 ml di olio d'oliva, 100 ml di vino bianco, acqua solo se serve, e un uovo, e un pizzichetto di sale. Va bene? Vai, Gildare. Voilà. Andiamo. Cominciamo ad operare. Su. Che buone. Allora, adesso metto l'uovo. E vai. Ecco qua. Olio. Ecco qua. Vai. Mischiamo. Mischiamo tutto. Poi mettiamo il vino. E dopo mettiamo pure un pizzichino di... Ecco qua. Di... Ecco. Ma proprio un pizzichetto, eh. Lievito? Sì. Per dolce. Una pizzicata di lievito, vai. Una pizzicata, eh. Va bene? Allora, io adesso impasto. Poi se serve aggiungo un po' d'acqua, eh. E allora andiamo con l'impasto. Ecco qua. Vai, Gildare. Un goccettino, hai messo di acqua? Sì, sì, ecco qua. Se serve... Un goccetto. Poi mettiamo l'altra acqua, va bene? Ecco te lo... Guarda che bello l'impasto. In primo momento... Sembra un po' bricioloso, però lo te l'impasta bene, eh. Allora, qui mi bagno le mani col vino, va bene? Ecco qua. Vedete? Ecco qua. Queste vanno proprio infastate bene, bene, eh. Questo è vino, eh. Ecco fatto. Che frappette che ce fa, Gildarella. Ecco fatto. Buone, buone. Voi poi, mi raccomando, se vi sembra un po' dura, che sia, aggiungete un goccettino d'acqua. Mi raccomando, eh. Vai, Gildarella, con tutta la tua potenza. Ecco qua. Adesso la faccio riposare un pochetto, eh. Va bene? E allora riposati. Qui la sto passando a uno, eh. Adesso la passo a due. Ecco qua, vedete? Guardate com'è bella elastica, eh. E vai con nonna papera. Eh, per forza, oh. Che frappette. A tre. Ecco qua, tre. Poi la passiamo a quattro. Vedete? Io le faccio a modo mio, eh. Buone, buone. Allora, e poi la ripasso a cinque. Va bene? Ecco qua. Voilà. A cinque. Io, poi non lo so, a voi come vi piacciono, decidete voi. Ecco qua. Adesso, facciamo, qua tagliamo così, facciamo così e va bene. Poi tagliamo così, 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 così. E così. E così. Alle, cappa. Ecco. E poi ve le giustrate come vi pare, insomma. Vedete, vedete, bucarle. E poi, c'è, ecco qua. Oh, che belle. Guarda, voi gli facciate pure i fiocchettini qua stamattina, eh. Sì. Che frappette, Gildare. Ecco. A posto. Queste lasciamo così. Sì, guarda un po'. Ecco fatto. E ora, facciamo, vi faccio vedere i fiocchetti, eh. Va bene. Tanto. Sempre a cinque, no, Gildare? Sempre a cinque. Vai a cinque, sì. Vai col fiocchetto. No, no. Allora, questo così. Ecco qua. Allora, facciamo un bel fiocchetto, eh. Ecco, fate così. E via, ecco. Nodino, nodino. Nodino, nodino. Infatti, io ho detto fiocchetto perché... Fiocchetto, nodino. Nodino, eccolo qua. Vai, Gildare. Un bel frappone. Ah, e daglie. E andiamo. Ecco. Basta, eh. Belle, eh. E no, mo tutta frappetta. Vai, Gildare. Ecco, voi fate pure così, vedete. Mi piegate voi, insomma, come mi pare a voi. Questo faccio nodino. Ecco. Ecco, le, eh. In frittura. Eccole qua. Ecco qua. C'ho l'acquolina qua io, eh. Gildare, tiraci un bacetto. Dai, va. Sta tutta presa, Gildarella, eh. Certo che sto presa. Eh. Eh, c'ha pure te se bruciano, eh. Eh, vedi un po', eh. Allora, Gildare, se frappette qua, che dicono? Guarda che bello, eh. Ah, va, che dicono. Magami. Guarda un po' qua. Non le posso mangiare. Ah, va aspettare dopo che ci metti, eh? E le cornie sopra. Ah, 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 ah. Te possino, Gildare. Ah, che bello. Namo, senti che profumino che c'è qui. Mamma mia. Mangiami, mangiami. Meglio che mi allontano, va. Eh, va lontano. Te va. Eccola, guardatela, guardatela. Oh, come gli piace stai fornelli. Certo. Eh, Gildare? Eh, è vero. Poi le frappette, che sono le sue preferite, eh, Gildare? Mamma mia, manierebbe qui tale io. Ah. Io le faccio e me le mangio pure. Certo, vedi un po'. Che fai? Le fai e le guardi, Gildare? Mm, e dai. Sì, Gildare? Sì. L'amma decorare un po'? Certo. C'è una rietta deliziosa? Ah, ma allora dillo, qui c'è intenzioni serie. Ah, dei posti, no. Mm, questa è una glassa. Mamma mia. All'orange. Mm, che bontà. Ecco qua, queste sono le mie frappette. Namo. Ulla, la, la. Mm, qui c'è proprio, ah, le meraviglie delle meraviglie. Mm, mamma mia, Gildare, che ci stai a combinà. Sì, è. Ecco le frappette. Sono terminate e adesso vi faccio vedere. Allora, intanto... Questa è la glassa all'arancio, eh. Vai, dice, Gildare, con la glassa all'arancio. Ebbene, ecco qua. Ah, che meraviglia. Sì, per me sono spettacolo. Ecco, le sono, già lei si è subito buttata avanti, ah, oh. La glassa mi piace troppo. Eh, allora, poi abbiamo queste con il miele, guardate che spettacolo. Miele e confettini, eh. Miele e confettini, eh. Miele e confettini, poi abbiamo la classica frappa con lo zucchero a velo, guardate che spettacolo. E poi, stanno, avemo fatto le frappe col pistacchio, tiè, mamma mia. Anziché la cioccolata, avemo fatto le pistacchio. Crema di pistacchio e granelle di pistacchio. Mamma mia. Che dite? Che piace le nostre frappe? Che si mangiamo. Girdarella, Girdarella, non so come ti ringraziate. Mi sa che me le mangio tutte, così ti faccio felice, eh, Girdarella. E' soddisfatta, tiè, guarda un po'. Buono, ci metto pure l'arancio, no? Buono, Gildare? Mmm, so buono, so buono. Guardate la faccia di Gildarella. Ah, brava Gildarella. Tiè. Oggi ti devo fare un applauso, perché stanno, che frappe ti sei superata, Gildare? De tutti li tipi. No, sempre. Però stanno e fatto l'aggiunta di pistacchio. Invece che al cioccolato, dei pistacchio. E faccio sempre così. Vanno super bene. Vabbè, belli mia. Tanti baci belli, sempre dal cuore. E ditemi se vi sono piaciute. Guardate, queste con la glassa. Ah, queste vede fatto. Se mi sono proprio il top. Tanto poi vi lascio tutto scritto, eh. Ok? Per bene tutte le ricette. Va bene? Baci belli a tutti, sempre dal cuore. E seguiteci sulla Cucina di Gilda per altre ricette gaiardissime. Ciao belli. Ciao ciao. Ciao.